Ciao amici di Venezia Channel, siamo qui a Copparo in compagnia di Francesco Paola Antoni, che non lo sa dire, quindi gliel'ho dovuto dire io, diciamolo Diciamolo a tutti, ci ho provato 400 volte, ancora niente? Allora sappiate amici che io ricordo di lui per Un Posto al Sole perché ha fatto un ruolo che aveva filo da torcere a Raffaele Sì, eravamo amici nemici, c'era una contesa sempre tra i due Io ho corteggiato spesso e volentieri sua moglie Esatto, la dottoressa Bruni La dottoressa Bruni, senza purtroppo arrivare a quagliare, diciamo Perché è troppo innamorata del marito Mi sono molto divertito perché sono amico di Patrizio Rispo da sempre Eravamo proprio ragazzi e quindi quando facciamo delle cose insieme ci divertiamo moltissimo Fantastico, quindi da Un Posto al Sole, quindi da Palazzo Paladini Qui a Copparo abbiamo appena assistito a questa bellissima commedia brillante E quindi dici un po' la tua passione per il cinema, per il teatro Qual è proprio quella che ti fa più battere il cuore? Ma io faccio questo mestiere perché mi diverte fare questo mestiere E secondo me chi fa questo mestiere dovrebbe avere la capacità e la voglia di godere delle varie corde che questo mestiere consente di poter usare Quindi il cinema, il teatro e la televisione Io mi diverto in qualsiasi ambito, devo dire Forse il teatro è quello che mi appartiene di più perché nasco con il teatro Poi c'è la possibilità di improvvisare, la possibilità di mettere in scena la commedia dell'arte Questa mia commedia è proprio frutto della commedia dell'arte e della mia esperienza di commedia dell'arte Però il cinema mi piace molto, mi sto divertendo moltissimo in televisione Mi diverto a fare l'attore Sì, sì, allora lo seguiamo in tutte le sue vesti Quindi diciamo il titolo di questa commedia e anche dove sarà prossimamente? Lo vuoi dire tu il titolo di questa commedia? No, te lo lascio a te, come il cognome Non si ricorda neanche il titolo di questa commedia? No, lo so, o te lo o io Brava! E vai, ce lo fanno O te lo o io, esatto, esatto E facciamo un po' di date in giro per l'Italia Saremo a Garbagnate, saremo a Biella ancora Poi Milano, poi adesso andiamo a Napoli Insomma stiamo un po' in giro E generante per tutta Italia Bene Francesco, sei bravissimo Bisogna eseguire l'Italia in teatro e quando lo spettacolo funziona come questo E si trova un pubblico caloroso come questo È veramente una goduria infinita Una goduria, bene, bene, dai Ci rivedremo allora sui pari schermi Grazie Francesco e complimenti grandissimi Grazie a te, grazie, grazie, grazie Un appraccio Grazie a Renato e a Venezia Channel E a Venezia Channel, ciao Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti